Chiediamo qualche minuto della vostra attenzione per qualche semplice regola, per un viaggio sicuro e confortevole. Rispettate sempre le distanze sociali e accomodatevi lasciando libero il posto immediatamente di fianco e quello di fronte a voi liberi. Nelle file da due posti, sedete esclusivamente nel sentile lato fisico, lasciando libero il posto corridoio. Indossate necessariamente una mascherina e dotatevi di guanti in uso. Il capotreno indossa il sistema di protezione e la sicurezza di tutti. I titoli di viaggio vengono controllati in modalità contact. Preparate il vostro biglietto ed esibite il codice QR al capotreno. Preparatevi per tempo per la discesa dal treno e disponetevi lungo il corridoio rispettando la distanza sociale. Non sostate in prossimità delle porte, è consigliato mettergere spesso le mani. Potrete servirvi anche dei distanze presenti a bordo di questo treno. Questo treno viene sanificato quotidianamente in conformità ai protocolli previsti dal Ministero della Salute. Se qualcuno mostra sintomi fluenziali, informate il capotreno che potrete trovare nella vettura in testa al treno. Acquistate i vostri biglietti e abbonamenti su trenitalia.com e app. Grazie.